Un'inchiesta dovrà fare luce su cosa abbia ucciso Katia Lamberti, la giovane donna di Torre del Lago, morta a Viareggio per Covid. La procura di Lucca ha infatti aperto un fascicolo sulla morte della trentenne positiva al Covid e morta il giorno di Ferragosto dopo essere arrivata in arresto cardiaco all'ospedale Versilia. La giovane, che doveva ancora vaccinarsi, era in quarantena. Il fascicolo è al momento senza indagati e senza ipotesi di reato. È già stata fatta l'autopsia, i cui risultati saranno disponibili tra un mese. La famiglia della trentenne, assistita dall'avvocato Lorenza Calvanese, aveva presentato un esposto contro i gnoti, ipotizzando il reato di lesioni e omicidio colposo. Nella denuncia, la famiglia chiedeva agli uffici della procura il sequestro probatorio delle registrazioni delle telefonate fatte dalla giovane a 118 della cartella clinica relativa a un intervento di chirurgia plastica al quale la donna si era sottoposta circa un mese prima in una clinica privata a Firenze per l'impianto di protesi mammarie. La famiglia chiede di appurare se al di là del Covid quell'intervento abbia a che fare in qualche modo con il successivo decesso della donna e se la trentenne sia stata assistita in maniera adeguata, quando ha iniziato a manifestare sintomi preoccupanti, in particolare il gonfiore al volto e alle palpebre, insorti il giorno prima della morte. Dall'esame dello smartphone della giovane, la famiglia avrebbe appurato che la trentenne tra il 10 e il 14 agosto aveva inviato diversi messaggi e fatto oltre 20 chiamate al personale medico per avvertire di quello che le stava accadendo.